Giorni insieme a me Siamo noi in questa notte quando ormai l'ombra fugge già fra neutri e neri e poi chissà Vedete che gli scambi culturali tra l'Italia e l'Algeria si fanno pure tramite l'università di Blida 2 è l'Illunisi, gli scambi si fanno tramite la Dila di Bruno Mancini e la Ada di Algeria Il professore di lingua italiana all'università sta leggendo una poesia di Bruno Mancini I giorni dell'estate Tardo a vincerti incontro I non mi scuote L'odore più bello della polvere La mia polvere balla Attendo il sogno Più lungo di luce E mi conquisto sperando a motivi Tante parole Vissute molto a effetto Alla luce dei neon E delle immagini riflessi Si giunge un canto Si giunge una goccia Si cerco un nome Almeno quello Dami Con il mio figlio A'Hatashusayh FI الفضاء الجامد L'antivare طويل HUT يلمع HUT يلمع HULUM TESLĨق mرة أخرى من حجلي BOTIĪT GESIOR Mضلل L'AQUAZI QZACHI NUJAGALA TUNTIR اليوم L'AQUAZI arkadaşlar De una AgaBaito No Mufakaka Sa'arifu AXda awasi Pilsay G diffuse Journée Bien was a vissi di perché sera insieme a te scacciando fughe dai tuoi ma soli siamo noi in questa notte quando